Giuseppe Di Marco, oggi giornata particolare dedicata alla festa della Terra, del nostro pianeta, una delle emergenze che attualmente ci coinvolgono un po' tutti, insomma siamo tutti invitati. Sì, l'appello di questa edizione è che la festa della Terra deve diventare un appuntamento per far sì che ciascuno di noi dia il suo contributo per investire sul futuro del nostro pianeta. Ovviamente questo ha un'importanza ancora più forte alla luce della triplice emergenza che stiamo vivendo, quella climatica, pandemica e oggi minacciata anche dalla crisi bellica. La stessa sostenibilità, lo stesso futuro delle nostre generazioni che viene messo drammaticamente in pericolo, dobbiamo tutti contribuire ad uscire da questa negatività e mettere in campo azioni che ovviamente portino alla salvaguarda del nostro pianeta e anche a risolvere i conflitti ebellici che sono in corso perché senza giustizia sociale non ci potrà essere nessuna giustizia ambientale. Ricordiamo anche che la nostra regione, l'Abruzzo, Regione Verde, tante aree protette, tanti spazi verdi che oggi magari è possibile anche visitare. Sì, diciamo che con la ripartenza dalla Pasquetta questi weekend le nostre aree protette saranno fruibili. C'è un ritorno ovviamente a riapprovarci degli spazi aperti anche alla luce della pandemia che stiamo purtroppo ancora attraversando e tutto questo ovviamente si sta trasformando anche in un momento di accoglienza. Ci sono riserve che sono coinvolte anche in attività legate alla Pasqua ortodossa che caratterizzerà anche gran parte degli ucraini che sono presenti sul nostro territorio. Diverse sono le riserve che si stanno muovendo su questo. Un appuntamento per esempio è proprio a Bosco di Don Venanzio, la riserva regionale, che domenica ospiterà un gruppo di ucraini proprio per dare ospitalità loro e far sì che possano vivere in tempi più tranquilli la loro Pasqua.